La Messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Chi sono questi inviati? Tu sei questo inviato, tu sei questa inviata. Ognuno di noi dal giorno del battesimo è mandato dal Signore a regalare gioia agli altri, a regalare presenza, a regalare sostegno. Ognuno di noi è depositario di questa missione, esserci nella vita degli altri, ma esserci in una maniera non personale ma particolare, esserci secondo ciò che ci chiede il Vangelo amando gli altri, essendo vicino agli altri senza mai possederli, senza mai fare in modo che gli altri diventino una nostra proprietà o una forma di sfruttamento per il nostro compiacimento, esserci per gli altri in modo cristiano come il Signore Gesù ci ha insegnato. La domanda che oggi ti consegno è questa. Tu, a chi credi di essere stato mandato? E soprattutto, sei fedele a coloro dei quali sei stato mandato. Grazie e buona giornata.